Un uomo originario della Campania è riuscito a raggirare un'anziana di Fano facendosi consegnare 5.000 euro in denaro e preziosi, spacciandosi per l'avvocato del figlio della donna e facendone credere che questo era in stato di fermo in caserma dai carabinieri dopo un incidente con l'auto sprovvista di assicurazione. Le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Fano con la fondamentale collaborazione della vittima hanno però permesso di risalire e denunciare uno dei due responsabili per truffa aggravata. Durante le investigazioni per prevenire e reprimere truffe i poliziotti di Fano guidati dal dirigente Stefano Seretti hanno identificato e denunciato anche altre quattro persone originarie del centro sud Italia per truffe online ai danni di altrettanti fanesi. Si tratta di acquisti di un aspirapolvere, un motociclo, una fotocamera, un'assicurazione auto per i quali era stato pagato parzialmente o completamente il prezzo ma che poi non erano mai stati consegnati. Nel caso del raggiro all'anziana un sedicente avvocato l'aveva chiamata inventandosi la storia del figlio fermato in caserma. Poi con le scamottage di non chiudere la telefonata l'aveva fatta parlare con il finto comandante dei carabinieri per rafforzare la convinzione della donna circa la situazione di difficoltà del figlio. Alla fine si erano accordati per la consegna di 5.000 euro, questa la scusa utilizzata per appagare la polizia assicurativa e il verbale seguito all'incidente ed evitare così la sospensione della patente e del carcere. Infine il finto avvocato si era presentato a casa dell'anziana per riscuotere quanto richiesto per poi però dileguarsi.